Attimi di paura ieri sera, poco prima delle 19 ad Agropoli, una donna residente in un comune limitrofo ha parcheggiato la sua Citroen C3 in via Filippo Patella, la strada che conduce al centro storico, lasciando all'interno della vettura due figli minori, uno di sette mesi e l'altra di quattro anni. Poi la donna si è allontanata per raggiungere uno studio legale. Alcuni residenti, passando in zone e attirati dal pianto del più piccolo, si sono accorti che all'interno della vettura erano presenti due bambini, il maschietto più piccolo e la femminuccia più grande. Immediatamente è scattato l'allarme, sono stati contattati gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Carmine Di Biasi e i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna. In attesa del loro arrivo, una donna ha convinto la bimba all'interno dell'auto a farsi aprire lo sportello. È stato quindi possibile liberare i due piccoli. Nel frattempo è stata rintracciata la madre che è giunta sul posto. I due sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 che hanno inviato sul posto un'ambulanza rianimativa della Croce Bianca. I figlioletti, rimasti chiusi nell'abitacolo per circa mezz'ora, sono stati visitati sul posto. Per fortuna le loro condizioni erano buone. La madre tuttavia rischia una denuncia per abbandono di minori. Presenta sul posto anche un assistente sociale.